Vergogna! Vergogna! Grazie a tutti! Vergogna! 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 Fino ad ora siamo stati noi lavoratori a reggere praticamente la schiena dell'azienda, potendo tenere i nostri punti venditi aperti non percependo più lo stipendio. Noi siamo ridotti alla fame o comunque in povertà quasi assoluta. Per cui noi chiediamo alla regione che possa intervenire politicamente per poter dissipare questa nostra situazione. Noi siamo lavoratori che chiediamo un aiuto alla politica, dove noi abbiamo versato le tasse per il lavoro, per la nostra società. Chiediamo di essere ascoltati e di avere una forma di aiuto anche a poter finanziare i nostri stipendi o qualcosa, perché noi proprio non abbiamo più aiuto da nessuno. Siamo rimasti soli, assolutamente soli. Renato Signorino, sono un dipendente della Fortè da 23 anni.